è accusato di avere finanziato di aver avuto un ruolo attivo in un'organizzazione terroristica in libia ma lui si è sempre difeso dicendo di averlo combattuto sul campo il terrorismo così per giulio lolli ex patron della rimini yacht si aprono le porte del tribunale dopo l'estradizione dell'anno scorso dalla libia dove due anni prima era stato arrestato ed era finito in carcere con l'accusa di terrorismo lolli è stato rinviato a giudizio pochi giorni fa dal jeep di roma l'imprenditore originario di bertinoro sarà processato davanti alla corte d'assise della capitale con data della prima udienza fissata per il prossimo 14 di ottobre dal carcere di regina cieli lolli è stato trasferito in quello di massima sicurezza di rossano in calabria proprio per l'accusa formulata a suo carico ma lì avrebbe avuto forti attriti con coloro che secondo chi li accusa farebbero parte del suo universo secondo quanto riportato dalla stampa locale lolli sarebbe stato minacciato da fondamentalisti islamici così alla sua richiesta di essere trasferito temendo per la propria incolumità è stato spostato in una sezione protetta del carcere già indagato per truffa dalla procura di rimini in una vecchia vicenda legata alla vendita di yacht e al fallimento della sua società lolli ora si difende estremamente dalla nuova pesantissima accusa ecco qui